Ultima puntata del 2015 ieri sera per Agorà. Il fortunato rotocalco settimanale della nostra emittente ha fatto il punto dell'anno che sta per concludersi a Gela. Un anno costellato da diverse novità per la città, dalla svolta epocale della guida politica Palazzo di Città che dopo 22 anni consecutivi è passata dal centrosinistra ai 5 Stelle a quella industriale con la chiusura dopo oltre un cinquantennio della raffinazione del petrolio che ha portato come prima conseguenza una disoccupazione dilagante. È stato anche l'anno in cui i gelesi hanno confermato di voler lasciare la vecchia collocazione geografica con la oramai ex provincia di Caltanissetta per passare nell'area metropolitana di Catania e l'anno in cui Caltacqua ha confermato e ha continuato a vessare i gelesi con una distribuzione idrica da terzo mondo. Insomma un 2015 che se ne sta andando senza grossi rimpianti e si spera in un 2016 di rinascita e di crescita della speranza. A dibattere tutto questo in studio sono stati assieme al conduttore il sindaco di Gela Domenico Messinese e visto che si parlava di bilancio di un anno con il primo cittadino è stato ospite di Agora anche l'assessore comunale al bilancio Fabrizio Morello. Inoltre la trasmissione di approfondimento giornalistico di Canale 10 ha ospitato la storica responsabile dell'associazione Arci le Nuvole Luciana Carfì ed infine il giornalista Fabrizio Parisi. Non è mancata poi la scheda firmata da Giulio Cordaro dal titolo fuori dal coro che è stata corredata da una colonna sonora in tema con l'argomento della puntata di Agora, ossia il brano di Lucio Dalla L'anno che verrà. Chi volesse rivedere questa ultima puntata del 2015 di Agora potrà farlo con la replica integrale che andrà in onda domani sera alle ore 21 su Canale 10 oppure sui nostri indirizzi social ossia il sito internet tg10.it ed il profilo facebook di Canale 10. Agora si prende ora una pausa per tornare in diretta venerdì 8 gennaio 2016 in prima serata con nuovi ospiti ed argomenti che riguardano come sempre Gela ed i Gelesi. La redazione di Agora augura ai suoi affezionati telespettatori un sereno Natale ed un felice fine ed inizio anno.